ma quanto sono nervosi i difensori di allegri parlo di quelli che ne prendono sempre le difese e che veramente mai riescono a criticarlo in maniera seria e così dal salottino di pressing con il dibattito spesso acceso ma non molto interessante con toni piuttosto rivedibili ai giornali con le prime pagine e gli editoriali in particolare la prima pagina di oggi 26 febbraio del Corriere dello Sport di Ivan Zazzaroni dove allegri viene paragonato a Garibaldi con specificazione e diciamo così approfondimento nell'editoriale anche all'interno del sito e si parla dell'era max perché appunto allegri ha superato i mille punti in serie A ed è il primo allenatore della storia del calcio italiano a girone unico a riuscirci ricordando comunque che allegri ha beneficiato di forse troppe stagioni in particolare alla Juventus e a differenza di altri grandi del passato ha potuto beneficiare anche della serie A a 20 squadre con 3 punti a vittoria. Ma va bene che si celebri pure allegri non ci sono problemi il problema magari è portare delle argomentazioni serie e non credo che nell'editoriale di Zazzaroni se ne trovino anzi Zazzaroni non perde neanche questa occasione per attaccare chi tifosi, suoi clienti, cioè gente che dovrebbe comprare il suo giornale persone comunque che hanno il diritto alla loro opinione quindi il mio invito personale è a ricordare sempre e non dimenticare mai quello che oggi ha scritto Zazzaroni L'ennesima dimostrazione di cosa e quanto possa cambiare nel calcio degli umori dei pregiudizi, delle antipatie e del risultato lui parla di risultato un gol all'ultimo minuto se Arrugani non fosse riuscito il colpo della domenica il quinto risultato inutile consecutivo della Juve avrebbe certamente ringalluzzito i troll e relativi figli dell'allegri out regalando loro argomenti vecchi e nuovi quel golletto invece è tarpato le ali della libertà di sparare minchiate agli attivissimi critici del tecnico livornese spostando in avanti il bombardamento ad alzo hashtag la Juve ha vinto come sa o come può alla fine di sofferenza ci è riuscita provando e riprovando a dribblare i propri limiti con l'orgoglio e anche un pizzico di disperazione ha dato così un senso compiuto a una prestazione non eccezionale una partita di errori non solo difensivi parzialmente corrette da Docian Vlaovic che ha tenuto in vita la squadra con due soluzioni da centroavanti vero insulti, offese, mancanza di rispetto nei confronti di tifosi ora ripeto per tutti i tifosi della Juventus tutti i tifosi della Juventus quelli che scrivono allegri out quelli che pensano allegri out quelli che lo argomentano senza usare l'hashtag quelli che sono a metà strada e si fanno la loro opinione e quelli invece che sono dalla parte di Allegri tutti i tifosi della Juventus devono, dovrebbero ricordare e mai dimenticare questi insulti queste offese gratuite di Zazzaroni a tutti quanti anche chi non è dell'Allegri out perché qui si tratta di portare rispetto rispetto per le opinioni degli altri e allora se chi è dalla parte di Allegri cavalca a questo tipo di insulti e di argomentazioni offensive che mancano di rispetto alla libera opinione degli altri perché davvero di questo stiamo parlando allora sono persone che non meritano rispetto perché sono persone che si avvantaggiano della delegittimazione e della prevaricazione di qualcuno più potente come sicuramente è potente il direttore di uno dei principali quotidiani sportivi italiani per andare a combattere senza argomentazioni con la parte avversa ma il problema è che non sempre si sta dalla parte dei vincitori quindi i cari allegriani diciamo così se oggi si possono ringalluzzire e sventolare Corriere dello Sport contro gli anti-allegriani quando saranno in minoranza e diciamo così all'opposizione avranno qualcuno che li proteggerà e li difenderà dallo stesso trattamento o saranno soli abbandonati e sconfitti pensateci bene perché la storia insegna che dalla parte dei vincitori si sta sempre molto poco e quindi ripeto non dimentichiamo mai queste offese gratuite di Zazzaroni ai tifosi della Juventus liberi di pensare quello che vogliono e anche di argomentare ma c'è anche un'altra parentesi da fare sempre relativa a pressing con Biasin che avrebbe fatto intendere che un allenatore voleva prendere il posto di Inzaghi l'anno scorso e così avrebbe foraggiato una certa campagna mediatica di fango nei confronti di Simone Inzaghi nella seconda parte della stagione 22-23 sulla panchina dell'Inter una seconda parte molto complicata con tante sconfitte e appunto tante critiche campagna mediatica che si ritiene sia stata portata avanti da Gazzetta ma a rispondere a Biasin ci sono stati Zazzaroni e Sabatini i quali hanno sostanzialmente esplicitato quello che forse il pubblico non sapeva ma aveva intuito che dietro la campagna mediatica contro Inzaghi da parte di Gazzetta c'era Marotta questo è quello che dicono questo è quello che si dice questo è quello che si sente e questo è quello che è stato riportato di questo dialogo sui social però evidentemente Biasin si riferisce a qualcun altro perché ha detto questa campagna d'odio è stata fomentata da chi voleva prendere il posto di Inzaghi ora chi è che in quel periodo quindi primavera 2023 poteva aspirare a prendere il posto di Inzaghi ed era pure amico di Marotta e qui insomma scorrono i secondi prima del gong e la risposta esatta è quanti allenatori perché di allenatori stiamo parlando sono in ottimi rapporti con Marotta hanno un ottimo potere mediatico e potevano ambire a prendere il posto di Inzaghi all'Inter alla fine della stagione quindi per questa stagione qui ognuno si faccia la sua idea sempre se Biasin ha detto una cosa corretta magari ha detto in perfetta onestà una cosa che non è del tutto vera perché su queste cose magari ci sono tante tante componenti che si vanno a sovrapporre e d'altra parte Sabatini e Zazzaroli manco erano d'accordo e ritenevano invece che non ci fosse nessun altro dietro eventualmente Marotta anche se magari l'intervento frenetico di cercare di ristabilire la verità è un po' sospetto come in tante altre occasioni questa è la situazione ognuno compri i giornali che vuole legga i giornali che vuole ascolti i video o i podcast che vuole segua sui social e su internet chi vuole però non dimentichiamo chi manca di rispetto alla libera tifoseria libera del proprio pensiero e anzi assolutamente da rispettare nella propria legittima e sacrosanta opinione perché il tifoso da questo punto di vista ha sempre ragione ha sempre ragione di lamentarsi di esaltarsi di esprimere la propria opinione perché il calcio è dei tifosi esiste per i tifosi non per i direttori di giornale che per anni sono stati anti una squadra e poi all'improvviso a causa di un allenatore sembrano fare i tifosi di quella squadra in realtà non è così grazie a tutti 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 grazie a tutti